Ecosmo Pharma è l'appuntamento, quest'anno compie 20 anni, 20 anni di successo, ma 20 anni anche di momenti per noi colleghi di trovarci insieme, quindi grandi conferenze, grandi momenti di aggiornamento e naturalmente il rapporto con l'azienda, con l'azienda farmaceutica, con l'azienda del cosmetico, con l'azienda della nutrizione. Quindi è il momento in cui le farmacie italiane si ritrovano per aggiornarsi, per ammodernarsi, per trovare cose nuove, per avere una farmacia che risponde alle esigenze di salute delle persone che continuano a cambiare, ma la farmacia l'ha dimostrato con l'informatizzazione, con la professionalità dei farmacisti, è sempre a passo coi tempi.